ciao a tutti e bentornati sul canale oggi si parla di make up di mascara e vi faccio la video recensione del mascara della essence è uno degli ultimi usciti in casa essence è il volume stylist 18 ore car and old mascara with micro styling waxes mi sto trovando davvero bene e lo sto diciamo comparando paragonando al famoso mascara vamp di pupa il top per me quello è il mascara per eccellenza perché è stupendo ne ho comprato uno di scorta mentre ancora il mio è lì che regge il colpo e in pratica quello lì è fantastico e non lo cambierei con nessuno però ho voluto provare il mascara della essence perché ho sentito parlare benissimo dei mascara essence anche cleo make up li adora e li utilizza e li consiglia lei stessa questo qui è il nuovo ha un packaging molto carino e rosato e a questa parte la parte del manico dell'impugnatura sembra un cestino invimini è davvero perfetto perché come vedete ha la capacità grazie al suo scovolino di separare le ciglia e di portarle su verso l'alto mi trovo bene perché appunto apre lo sguardo e anche se con un trucco così semplice come quello che oggi sul viso è fantastico ha uno scovolino particolare fully loaded paddle bash spero si pronunci così grazie a questo scovolino essence lo chiama mascara occhi effetto incurvante e fissante devo dire la verità dura tantissimo io lo indosso la mattina lo uso la mattina per andare al lavoro lo metto su alle 7.30 8 meno un quarto e mi strucco la sera che sono le 11 mezzanotte dura tutta la giornata con tre ore 79 che è il suo costo abbiamo un risultato perfetto come se avessimo utilizzato il mascara vamp di pupa che costa credo 12 euro all'interno della confessione ci sono 12 ml di prodotto e la durata della confezione è di circa 6 mesi è un po pochino ma in realtà dura un po di più io l'ho preso questo ad aprile maggio e più o meno siamo quasi arrivati a 6 mesi diciamo che da quando l'ho aperto l'ho preso da più di maggio ma in realtà l'ho aperto dopo quindi più o meno siamo ai 6 mesi ed è ancora pieno perché lo sento è bello pesantuccio e quando lo apro per raccoglierlo sento che c'è ancora tanto prodotto ho scovato e questa è una chicca che vi racconto perché ho trovato che sia una soluzione geniale ho scovato un piccolo trucchetto quando il mascara sta per finire e quindi diciamo diventa un po secco invece di gettarlo via subito sapendo che c'è ancora un po di prodotto si possono mettere all'interno del flacone un po di gocce qualche goccia di liquido quello per le lenti a contatto la soluzione salina che si utilizza per conservare le lenti a contatto si mette all'interno qualche goccia si agita il falcone un po e dopo di che si può continuare ad utilizzare in emergenza ovviamente il mascara che è rimasto all'interno del prodotto così se siamo proprio sprovviste di mascara non abbiamo la confezione di scorta in quella maniera lì almeno si può recuperare è una piccola chicca collaudata constatata l'ho fatto e il mascara era lì sui miei occhi ed è funzionato perfettamente il video termina qui spero che vi sia piaciuto spero che soprattutto sia stato utile se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e seguite le indicazioni che sono qui sotto mi raccomando trovate i link a tutti i miei canali social giù nell'info box ciao e alla prossima